Spettacolo il paio di attori immortalizzati in un'azienda nella zona Montalto di Castro Marco. Bocci e Laura Chiatti a Montalto di Castro. La coppia di attori italiani è stato immortalato in una fattoria in tuscia 0 km. Per dare l'annuncio. I proprietari dell'attività. Abbiamo avuto il grande piacere di servire la bellissima coppia Marco Bocci e Laura Chiatti scrive. Lo staff della compagnia di Chiaranda. Grazie per la visita. Bocci e Chiatti non è la prima volta che scelgono una posizione marina in tuscia. Nella Montale di Castro. Alcuni anni fa hanno già trascorso le vacanze estive insieme alla figlia. Per Marco Bocci. Montalto Marina è stata una fermata fissa da quando era piccola e ho trascorso la pausa estiva. Insieme ai genitori. Ho superato la mia infanzia a Montatal Marina. Se non vengo qui per me non è estate. Ha detto l'attore. Nel settembre dello scorso anno. La famiglia Bocci Chiatti era rimasta nel campeggio Itrascan Pioner. Nel cuore della foresta di Pini Municipali Montalto Marina.